In premessa ovviamente non è suffragata e supportata da dati e quindi ovviamente sono i tecnici di riferimento quindi mi sento di dire che sì, sulle richieste di acconsentire ovviamente non sottoscrivo quello che è stato scritto perché dobbiamo opportunamente verificare, ci sono delle affermazioni e quindi sulle affermazioni andranno opportunamente verificate. Se vuoi aggiungere qualcosa al Vice Sindaco? Volevo integrare le affermazioni del Sindaco intanto per confermarle ma anche per dire che ho fatto alcune ricerche insieme all'Ufficio Ambiente e mi pare all'inizio dell'anno o durante la primavera ci sono state delle esalazioni, insomma ci sono state delle segnalazioni di odore di acetone, similacetone in zona. Mi ha detto l'Ufficio Ambiente che hanno fatto dei sopraluoghi che non è stato rilevato nulla e che comunque era forse dovuta a delle lavorazioni in un'altra azienda vicino al gruppo Fabri. Dopo poi ovviamente sono continuate le attività in relazione anche ad altre situazioni che ci sono state a livello ambientale però non sono mai state depositate petizioni e neanche ovviamente richieste specifiche di intervento come nel caso di specie. Quindi l'avvio del procedimento c'è già stato, c'è stata anche la segnalazione di un'altra signora quindi si è dato via un procedimento unico e stiamo attendendo da ARPA il programma dei lavori per poi incontrare i cittadini. Peraltro avevamo già allertato anche l'Ufficio Ambiente quando era già prima ancora di ricevere la petizione quindi ci eravamo già predisposti perché sapevamo che sarebbe arrivata, è uscita prima sulla stampa e ancora prima avevamo visto girare un volantino che chiedeva appunto di raccogliere delle firme sul problema quindi c'eravamo già di fatto preallertati e appena è stata depositata la petizione è partito subito il procedimento. Grazie. Bene. Qualcos'altro da aggiungere? Pesce o possiamo... No, solo una curiosità, chiedo scusa per un'integrazione perché se ho capito bene ci sono state due segnalazioni oltre a questa petizione quella che ha citato il vice sindaco e quella della signora... È la stessa. Ah, è la stessa sostanzialmente. Visto che il vice sindaco ha fatto alcune ricerche queste qui sono le uniche segnalazioni agli atti dell'amministrazione attualmente. Con qualche riscontro, sì. Sì, poi magari ci sono state altre, però agli atti ci sono questi. Grazie. Bene, procediamo. Smeraldi. La mia interpellanza riguarda il recupero dell'area della stazione ferroviaria. Un recupero che sarebbe un tassello molto importante per lo sviluppo di Vignola e dei comuni circostanti perché la stazione potrebbe diventare il punto d'arrivo di partenza, di flussi turistici ed economici nella nostra città. Perché questa interpellanza? Perché nel corso del dibattito sulle linee programmatiche Anpassani, vice sindaco, ha affermato che si tratta di un progetto molto impegnativo e costoso e quindi, adesso non ricordo le esatte parole, tutto sommato sarebbe quasi meglio lasciare perdere e che il tutto ritornasse al demanio. Parto dai dati ufficiali, dagli atti ufficiali. Il primo è la delibera del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2016, votata all'unanimità, avente ad oggetto l'accettazione per presi in carico con trasferimento in proprietà a titolo non oneroso di bini di proprietà statali, senso dell'articolo 56 bis, eccetera. Ve ne leggo alcune parti, brevemente. In questa delibera si dice, tra gli altri, si conferma che gli enti territoriali a cui l'immobile viene trasferito sono impegnati ad attuare effettivamente quanto rappresentato con l'istanza di acquisizione. I trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del Demanio, l'ente territoriale non risulta utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato che ne assicura una migliore valorizzazione. Poi si fa riferimento a una delibera della Giunta precedente con la quale è stato approvato il piano esecutivo della gestione. In quella sede furono proiettate il Dottor Monduzzi, responsabile del Servizio Interventi Economici e Marketing, e le slide illustrative del futuro utilizzo dell'immobile. Nella delibera si delibera ovviamente di acquisire gratuitamente questi beni e si dice anche che il Comune a cui vengono trasferite le proprietà è impegnato ad attuare effettivamente quanto rappresentato con l'istanza di acquisizione. L'altro atto è un atto di giunta successivo del 28 dicembre 2016, anche questo votato all'unanimità, avendo ad oggetto l'assunzione di idee di realizzazione in funzione del reperimento di finanziamenti e contributi. Qua nella premessa si ricorda come, con delibera numero 25 del 22 marzo 2016, la Giunta Comunale avesse chiesto alla Regione Emilia-Romagna l'inserimento del Comune di Vignola nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. A supporto di questa richiesta era stato inserito, come valore progettuale di riqualificazione dell'area e stazione dei treni, e la rifunzionalizzazione dell'area stessa a fini di promozione territoriale e turistica. Quindi era un elemento importante di questa domanda. Poi si ricorda nella delibera che per la qualificazione dell'area risulta fondamentale il riperimento di risorse anche tramite linee di finanziamento disponibili in bandi locali, regionali e nazionali. Per accedere a tale linea di finanziamento risulta essenziale assumere le linee progettuali proposte dagli uffici competenti. In più occasione la Fondazione di Vignola ha espresso interesse a partecipare attivamente alla riqualificazione dell'area, anche in virtù del fatto che tale snodo risulta di fondamentale importanza sia nello sviluppo della città che in quello dell'Unione Terre di Castelli. E quindi si deliberava di approvare e di assumere le linee progettuali, quelle che erano state presentate da Monduzzi nel corso del Consiglio precedente, di dare mandato agli uffici competenti di ricercare finanziamenti locali, regionali, nazionali e europei utili alla realizzazione della fase di progettazione delle idee e di dare mandato agli uffici competenti di inviare formali richieste alla Fondazione di assegnare i finanziamenti impegnati fuori del Comune di Vignola per il Bando Sviluppo Locale per gli anni 2014-2015-2016 a favore del progetto di qualificazione dei treni. Ora, noi vorremmo sapere qual è la situazione dei finanziamenti. Ricordo che la Fondazione di Vignola aveva dichiarato la sua disponibilità finanziaria l'intera progettazione di questo intervento e aveva già interpellato l'architetto Fontana. Ma mi risulta che la nuova amministrazione in questi cinque mesi non ha preso alcun contatto con la Fondazione a questo proposito. La Regione poi aveva manifestato interesse per il progetto che poteva rientrare nei finanziamenti per il potenziamento del trasporto ferroviario e rifacimento delle stazioni previsti nel 2018 per l'intera Regione Mila-Romagna in circa 22 milioni di euro, di cui tre potevano essere destinati a Vignola. L'assessorato competente ha noi interpellato e ci ha riferito che in questi cinque mesi nessun membro dell'amministrazione ha preso contatto con la Regione. Le ferrovie Mila-Romagna e SRL poi si erano già dichiarate disponibili e ha conceduto l'incomodato la parte degli immobili di sua proprietà per intenderci la stazione vera e propria. Ci aveva già inviato bozza dell'atto di concessione e deliberato un piccolo finanziamento di 60 mila euro per proseguire nella ristrutturazione del fabbricato. Neppure con questo ente mi risulta che l'amministrazione ha preso contatti. A ciò si deve aggiungere una situazione particolarmente grave della quale forse non tutti i membri della nuova amministrazione sono al corrente. Fino all'acquisizione gratuita dell'area, di cui la delibera sopra citata, una parte della rotonda della stazione, una parte della pista ciclabile adiacente, l'intero parcheggio intermodale e la strada di accesso alla stazione da via Bellucci, quella che poi porta all'ospedale, non erano di proprietà del Comune, lo sono diventati con questo atto. Quindi il fatto che questo atto possa essere risolto comporterebbe la retrocessione al demanio anche di queste aree. Capisco che è un progetto difficile e complesso da affrontare. Certo, molto di più rispetto alla potatura degli alberi e alle mitiche valvole termostatiche che peraltro stanno dando problemi abbastanza rilevanti. Però, considerando che il progetto era stato condiviso da chi tra voi faceva parte della precedente amministrazione, che comunque è necessario portare avanti qualche idea, magari coraggiosa per lo sviluppo della nostra città, che sta per concludersi la vicenda della Polizia Municipale che ha assorbito tutte le vostre energie in questi mesi, chiedo, non credete che sia doveroso non abbandonare il progetto, anzi, che sia opportuno riprendere tutti i contatti per realizzare qualcosa di utile per lo sviluppo economico, turistico e commerciale di Vignola? Queste sono le due domande. Giunta, vuole anticipare qualcosa perché mi sembra una domanda un po' complessa e che meriterebbe una risposta articolata. Meriterebbe una risposta abbastanza lunga, parte da una polemica e quindi non scenderemo nella polemica. Con la fondazione, non so, la fondazione è composta da vari membri, da vari consiglieri, quindi non so chi può avere dichiarato che non si è mai parlato della fondazione. Quindi almeno se ci riporta chi può avere detto questa cosa. A me non risulta, comunque non è quello. Non vorrei aprire un incidente istituzionale. Comunque l'unica progettualità è già stata vista, visionata, è altamente sottostimata, nel senso che prevedeva un importo di 2 milioni e 7 circa, con dei costi, quindi appunto la risposta è molto articolare, ma per farvi capire la complessità, per il recupero di alcuni istitabili si parlava di 400-500 euro al metro per la ristrutturazione. Assolutamente con 400-500 euro al metro non si recupera, forse si costruisce un grezzo, ma non si recupera assolutamente degli edifici, quindi è una progettualità che almeno forse il doppio ci vuole, quindi ci vuole almeno 5 milioni di euro. Per la modalità di presentazione alla regione di progettualità normalmente ci vogliono dei progetti definitivi o esecutivi, perché non è nella disponibilità dell'assessore concedere finanziamenti senza un progetto solo con uno studio di fattibilità o un rendering o quello che è in possesso dell'amministrazione ora. Quindi ovviamente con la fondazione ci sono tantissime cose in ballo, tra cui anche la stazione, e quindi ovviamente, come abbiamo parlato con la fondazione, una progettualità che potrebbe variare dai 4 ai 5 milioni di euro richiede un impegno finanziario della fondazione sicuramente molto importante, e quindi ovviamente tutto, soprattutto in tutto, quindi legato anche ad altre progettazioni e quindi tante altre cose, quindi essendo la tematica così importante, ovviamente in 5 mesi sono al di là della polemica, che ecco anche questa sui vigili, quindi è una tematica importante. Abbiamo preso poco, se non degli intenti, perché quello che si è detto si è parlato con la Regione, che aveva promesso in tutta la campagna elettorale, io avevo presentito parlare di un milione e otto, questa sera sono diventati tre milioni, meglio che siano tre milioni. Andiamoci insieme, quindi lo dico proprio molto aperta a me, andiamo insieme dall'assessore Donnini o dalla Regione, dal funzionario, così, perché se veramente ci sono queste ricche sorse, credo che come Consiglio Comunale ci dobbiamo impegnare tutti in maniera condivisa e trasversale, perché se avremo una nuova stazione non sarà a disposizione solo del Sindaco, ma della cittadinanza. Quindi su questo proprio cercherei di provare, poi anche dando la risposta, ma non è importante la risposta a queste domande che vengono poste, ovviamente, e le azioni che dovremmo mettere in campo, e quindi qua, se il Consigliere Smeraldi ci vuole aiutare nel ritrovare i contatti che aveva, ben volentieri, perché ovviamente è una tematica molto importante, c'è bisogno di molte risorse, perché far impegnare la Fondazione con una progettazione che può valere molte decine, se non centinaia di migliaia di euro, una progettazione definitiva, esecutiva, eccetera, se poi non ci sono i fondi per mandarlo avanti, si rischia anche di avere un bellissimo progetto che però rischia di diventare lettera morta. Quindi l'invito è di, su un tema così importante come la stazione, non accapigliarci e cercare invece di riprendere i fili, se c'erano già delle progettualità e anche degli impegni orali o altro, quindi qua dichiaro la mia disponibilità, poi se si vuole chiedere che cosa si vuole fare, ovviamente è nel programma elettorale, ma ovviamente recuperare, abbiamo anche già provato a vedere, fatto una piccola valutazione di parte di quello che oggi è recintato, di poterlo trasformare in sosta, visto la bisogna di sosta per auto che c'è a ridosso del centro, quindi abbiamo già fatto anche valutazioni diverse, quindi con dei rendering, con delle foto, per effettivamente da portare in commissione, in consiglio e a tutti i cosiddetti stakeholder per fare una valutazione comune, essendo che comunque la stazione sarà patrimonio di tutti. Vuoi fare una replica bravissima? Ti prego, bravissima. Grazie. 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 Grazie a tutti